e ragazzi ma non questo marocco questo marocco che esce a testa altissima buonasera ragazzi francia 2 marocco 0 risultato un po falso assolutamente sì perché marocco meritava molto di più però sta francia è più forte purtroppo è più forte ha fatto un sacco fatto un sacco di falli mbappé proprio menato tutt'andarte e tutti gli altri pure ma non c'è un'altra maniera di fermarli sti qua però ha fatto due gol il primo poi c'è due rimpalli allucinanti secondo idem un rimpallo tutto nato da un disimpegno sbagliato a centrocampo purtroppo però il marocco si è fatto valere rispetto alla croazia tanto quanto il marocco ci ha provato porca misera si entrava col gol in rovesciato al primo tempo sarebbe stato epico solo che io risse era pronto a parare peccato ragazzi peccato perché questo marocco qua poteva fare la storia una storia ulteriore però la francia sarei sudata eh stasera non è che ha fatto chissà che passeggiata quindi adesso francia argentina argentina francia vedendo il tabellone e somma somma e chi lo sa chi lo sa ci potremmo aspettare ma insomma l'argentina deve trovare un metodo per fermare questo mbappé e tutti gli altri alla fine francesi praticamente tutti africani sono che corrono come dei matti e hanno sto sto girù che non girù stranamente stasera non ha segnato ma ai suoi momenti e però sarà una finale sicuramente equilibrata e sarà una bella lotta e statisticamente eh la francia potrebbe potrebbe eh come eguagliare tra virgolette il record di due coppa del mondo consecutive in due dizioni consecutive cosa riuscita soltanto all'italia nel 34 e nel 38 e il brasile nel 58 nel 62 quindi la francia potrebbe forse ripetere pareggiare il record vincendo due coppe del mondo di fila di 11 18 e 22 e però se stiamo a pensare alle finali giocate la francia la francia questa è la quarta finale di coppa del mondo che gioca e ne ha vinte due e persa una l'argentina se non dico cavolate questa è la quarta finale di coppa del mondo che gioca ne ha vinte due ne ha persa una quindi a pari proprio a pari quindi se non ero e sto andando a memoria sinceramente ma dovrebbe essere così perché l'argentina altre finali ha perso qua si giocano la terza stella eh qua la terza coppa del mondo e va a eguagliare nessuno perché nessuno ha altre mondiali l'italia nella quattro la la germania nella quattro quindi andrebbero ad avvicinarsi a queste due nazionali qua e francia è incredibile dal 98 ecco negli ultimi 24 anni cioè quattro finali in 24 anni insomma non è non è neanche poco e diciamo che la francia nella storia non è mai stata fortissima a parte l'anni 80 che c'era platini però comunque diciamo la verità e siamo sportivi merita di arrivare in finale quest'anno perché ha dimostrato comunque di essere una squadra forte e l'argentina ci arriva in finale eh con esaltata la vittoria con la croazza croazza che in confronto dalla marocco secondo me la finale del terzo quarto posto il marocco è strafavorito ad arrivare a meno a prendere a meno il bronzo e se lo meriterebbe tutto marocco se lo meriterebbe tutto perché ha perso stasera ha perso a te la sconfitta a testa altissima poteva ha dato è l'unica che ha dato fastidio a questa francia beh a parte beh la sconfitta che contro chi era il cameron mi sembra nel girone vabbè ma lì era quasi inamichevole questa è una partita diciamo più seria perché comunque la la francia era già qualificata agli ottavi però è stata una bella partita di per sé molto maschia perché molte molti interventi eh molti falli fischiati non fischiati poi c'è teo Hernandez io lo odio lo sapete di là che poi giocato giocamino ma mi sta proprio sulle palle proprio uno stronzo di prima categoria cioè va a fare cioè pensare alla furbizia di questo pezzo di merda cioè si è preso il fallo facendo fallo tra l'altro in area che sarebbe stato pure il rigore e già lì dice tutto quindi domenica possiamo aspettarci eh una bella partita maschia anche lì eh eh molto potrebbe essere molto nervosa però ragazzi eh le finali vanno tante volte anche episodi quindi ma non solo le finali anche questi scontri diretti basta un episodio basta un gol un gol che arriva per caso chi la sblocca prima chi pareggia subito insomma varie vari episodi vari vari fatti che potrebbero eh decidere questa finale finalissima e allora andiamo a intascarci qualcosa speriamo speriamo comunque fatto sta che speri ora si tifa argentina per forti noi italiani per forti dieci volte di più si tifa argentina perché i francesi sono i rivali di sempre e i argentini sono i nostri cugini non per far la rima ma di per sé alla fine alla lontana sono i nostri cugini tanti italiani la maggior parte hanno sempre la mia parte sì poi anche tanti altri conosco tanti che comunque sì hanno sempre simpatizzato l'argentina per il semplice fatto che storicamente hanno sempre avuto giocatori argentini che giocatori argentini che hanno giocato in serie a e tuttora giocano ma all'epoca anni 90 anni 2000 tantissimi giocatori argentini hanno militato nelle squadre italiane e tanti importanti mi ricordo nazionali e già vi dicevo nei corsi video che c'erano dei giocatori della madonna che giocavano tanti in serie a vai di battistuta crespo zanetti stesso poi successivamente sono arrivati gli altri beh anche samuel samuel gioca probabilmente quasi siamo giocati in italia tra roma e inter quindi insomma una bella colonia di argentini italiani poi totte che hanno anche tanti dalla provenienza italiana quindi molto di più questa francia qua non per fare razzista ma non è tutta sta gran francesità mezzi africani per forza per forza che corrono come come dei matti non è razzismo è proprio una cosa fisiologica una cosa come posso dire c'è scientifico è scientifico che quelli di carnagione scura e avendo provenienze di quelle parti là hanno una fisicità più più robusta e comunque hanno una carica in più nella corsa soprattutto nel caccio di oggi che bisogna correre a destra e sinistra e dare il massimo al cento per cento comunque ragazzi gameplay finalissima argentina francia forza argentina tutta la vita domenica alle 16 televisori accesi e si tifa proprio argentina che manco manco l'italia proprio a tutto andare ragazzi a presto ci vediamo prossimamente con gameplay penso di farlo penso venerdì probabilmente e poi non so se riuscirò a vedere la partita marocco croazia non mi interessa tantissimo ma forse farò un commento post partita di quello comunque sicuramente il gameplay sarà fatto con il futbol 2023 a presto al canale forza argentina ciao 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 ciao